Cari amici, la prossima primavera ci saranno le elezioni per il Consiglio Comunale e per il Sindaco. Sarà un'occasione importante per vedere quello che possiamo fare per sollevare un po' con questa città che è veramente in condizioni di difficoltà, non andiamo bene. Tuttavia dobbiamo sperare, dobbiamo gettare il cuore tra l'ostacolo e lavorare per cercare di migliorare le cose. Per farlo dobbiamo anche prepararci e noi come Movimento Civico ci stiamo preparando, elaborando un progetto, un programma per la città, individuando una squadra che dovrà portarlo avanti e cercando di individuare e poi sostenere il Sindaco migliore, la personalità migliore in questa situazione. Vi manderemo, a chi non l'ha già ricevuto, ma comunque manderemo a tutti una bossa di programma. Voi potrete intervenire con suggerimenti le proposte e darsi una mano in questa impresa, chi lo vorrà. Grazie se volete, se vorrete partecipare a questo nostro sforzo che noi facciamo nell'interesse nostro naturalmente, ma di tutti noi concittadini, perché la nostra città merita di più di quanto ora. Arrivederci e grazie.